Mattinata di pioggia anche ad Erbezzo oggi, come del resto in tutta la provincia di Verona, che tuttavia non ha scoraggiato la partecipazione di alcune decine di allevatori, agricoltori e titolari di aziende agricole del territorio al secondo incontro organizzato dall'Associazione Temporanea di Scopo Altipascoli dell'Alessinia. L'appuntamento che si è tenuto all'interno della Sala Ciclamino ha avuto il medesimo obiettivo di quello che si è svolto ieri a Velo Veronese, ovvero rendere consapevoli i principali attori dell'Alessinia del patrimonio di cui sono custodi da generazioni. Dopo i saluti del sindaco di Erbezzo, Lucio Campedelli, hanno preso parola l'architetto Chiara Zanoni, il medico veterinario Antonio Scungio, il dottore forestale Davide Pasut e il collega Sebastiano Lucchi. È proprio quest'ultimo ad aver illustrato la cosiddetta analisi VASA, acronimo di valutazione storico-ambientale, ovvero un'indagine che punta a stabilire l'integrità del territorio lessinico utilizzando come parametro il confronto tra alcune foto aeree scattate nel 1954 e alcune nel 2019. Abbiamo preso le foto aeree del 1954 dell'Istituto Geografico Militare e le abbiamo foto interpretate classificando tutto l'uso del suolo di tutta l'Alessinia. Allo stesso momento abbiamo fatto lo stesso lavoro con le foto aeree attuali del 2019 e in questo modo siamo riusciti a confrontare il territorio nel corso degli anni e a analizzare l'evoluzione e i cambiamenti che ha subito dal 1954. Quello che emerge dall'analisi VASA è che il territorio è rimasto sostanzialmente integro e questo è un ottimo risultato per i parametri richiesti dal registro dei paesaggi di interesse storico e rurale. Il territorio è rimasto integro in particolar modo per quel che riguarda il Prato Pascolo abbiamo visto una modificazione rilevante dell'avanzamento del bosco di quelle che prima erano considerate delle aree a vegetazione rada probabilmente perché è stato abbandonato l'utilizzo dei pascoli arborati e quindi il bosco è avanzato e ha guadagnato sul territorio. Al termine dell'incontro sono intervenuti anche il coordinatore del progetto Altipascoli Giuliano Menegazzi e il presidente della TS Daniele Massella. Luigi Boscolo, consigliere del Galbaldo Lessinia, ha illustrato una misura che mette a bando fino all'8 ottobre 700 mila euro per riqualificazioni storico-ambientali per il pubblico e privato. Appuntamento per sabato 30 novembre a Bosco Chiesa Nuova per la mattinata di presentazione dei dati del tavolo tecnico. Grazie a tutti.